Albano, la felicità è anche fare beneficenza, come la serata di stasera. E soprattutto beneficenza. Poi è bello distribuire emozioni positive agli altri. Perché ci fa star bene anche a noi. Troppa gente che si piange addosso, quelli a me danno fastidio. Dai, seminiamo felicità, perché non costa niente, è vero? Verissimo, grazie. Ciao. Ciao.